Salve a tutti! Sono tornata con una nuova ricetta. Questa volta si tratta di una ricetta veramente facile e con pochi ingredienti. E' quella dei cantucci. Vi lascio alla videoricetta. Un grosso bacio, alla prossima! Ciao! Per prima cosa, versare la farina in un contenitore e aggiungere poi il lievito per dolci. Aggiungere poi lo zucchero. Aggiungere 4 uova. Aggiungere il lievito fuso. La cannella. E un po' di buccia d'arancia. E amalgamare tutto per bene. Una volta raggiunta questa consistenza, possiamo aggiungere le noccioline e continuare però a impastare. Questo è l'impasto amalgamato che dovete ottenere per poter poi dare la forma ai nostri cantucci. Lavorate l'impasto fino ad ottenere questo risultato qui e poi ponetelo su una teglia da forno e spennellatelo con il forno del luce. E infornarli a 190 gradi per 20 minuti. Trascorsi i primi 20 minuti togliamo i nostri cantucci dal forno e li tagliamo in tanti piccoli pezzi. Su per giù di questa dimensione qui. Per poi andarli a rimettere in forno questa volta per 10 minuti a 170 gradi. Questo è il risultato finito. Spero vi sia piaciuto. Un grosso bacio e alla prossima ricetta.